Allora, vi dico una cosa, è stata una riunione utile sapendo che lavoriamo in un clima non semplice, con un paese che aspetta risposte urgenti, una maggioranza composta da forze politiche che sono state avversarie e che saranno avversarie con molti punti di distanza, ma sappiamo anche che ci sono alcuni problemi urgenti che vanno risolti e le risposte le aspettano gli elettori di destra, di centro e di sinistra, indifferentemente, perché sono problemi quotidiani, drammatici delle famiglie e noi sappiamo che dobbiamo fare in fretta ma anche fare bene. Ieri abbiamo assunto una decisione sui due temi che saranno oggetto del primo provvedimento, cioè l'Imu e gli ammortizzatori sociali, le due cose più urgenti che sono soltanto le prime rispetto a un percorso in cui cercheremo di lavorare nei primi 100 giorni con obiettivi raggiungibili e condivisi. Questo è quello per cui siamo stati chiamati in questo ruolo difficile, ce la metteremo tutta perché non si possono più rinviare le risposte che gli italiani aspettano.